E' il weekend del Fico d'India Festa Santa Margherita Belice, manifestazione giunta alla 22esima edizione che quest'anno segna la ripresa dopo il Covid e il maltempo che lo scorso anno ha distrutto il frutto proprio nel momento della massima produzione. Oggi e domani nella città del Gattopardo sono in programma eventi dedicati al Fico d'India con degustazioni, mostre, intrattenimenti, esposizione di artigianato locale e confronti tecnici. Location centrale dell'evento saranno Piazza Matteotti, lo splendido Palazzo Filangeri Cutò e altre piazze del Centro Storico. Questa mattina all'inaugurazione e l'apertura degli stand cui è fatto seguito al Teatro Sant'Alessandro il convegno dalle terre alla tavola come la nutrizione incide sulla salute, oltre all'avvio dei mercati artigianali. In serata per tutti i visitatori c'è una base di Fico d'India e musica itinerante con i Siculi. Non solo il Fico d'India, domani mattina zabbinata con degustazione della ricotta della Valle del Bellice e di altri prodotti tipici. E poi l'intrattenimento con il Teatro dell'Opera dei Pupi di Angelo Sicilia che rappresenterà il primo tradimento di Gano di Magonza, ma anche la sfilata del Gatto Pardo a cura dell'Accademia Italia Film e lo spettacolo musicale di Terre d'Amore con Gianna Guaiana e Pippo Barrile. A curare il servizio di accoglienza e ospitalità alberghiera saranno gli studenti dell'Amato Vetrano di Sciacca e dell'Istituto Titone di Castelvetrano. Il Fico d'India Fest è organizzato dal Comune di Santa Margherita Bellice che pur senza la disponibilità del bilancio ha potuto promuovere l'evento grazie al contributo dell'assessorato regionale all'agricoltura e attraverso un progetto presentato dalla Casa della Salute la partecipazione di alcune aziende private. Una manifestazione commentano gli assessori Baldo Giarraputo, Onorio Di Giovanni e Tenino Bonifacio dedicata in particolare agli agricoltori e produttori della città che lentamente e con grande tenacia hanno ripreso il loro lavoro dopo gli eventi calamitosi che lo scorso anno hanno danneggiato la pregiata produzione del Fico d'India.